Vice sindaco, ieri vi siete sin da subito adoperati anche per consigliare alla popolazione di esempio di tenere chiuse le finestre. Assolutamente sì, ne approfitto per ringraziare tutto il sistema di protezione civile, vigili del fuoco, le forze dell'ordine ed anche la cittadinanza per la collaborazione che hanno dimostrato in questa occasione di emergenza. Si è resa necessario proprio per il fumo sprigionatosi dalle fiamme, invitare la popolazione a limitrofa, soprattutto a tenere chiuse le finestre per evitare che il fumo invadesse gli ambienti domestici. In poche ore però poi la situazione è tornata alla normalità. Esattamente, ringraziando anche la situazione climatica, i venti erano un po' cambiati e soprattutto l'ottimo lavoro svolto dalle numerose squadre di vigili del fuoco interuniti sul posto hanno consentito di delimitare l'area interessata dalle fiamme e ci ricoscrivono l'incendio e poi spegnerlo definitivamente. Tanti cittadini che poi si sono adoperati? Altrettanto vero e per questo che il plauso va anche alla cittadinanza sia per l'avviso tempestivo ai mezzi di soccorso ma soprattutto anche perché si sono adoperati effettivamente per collaborare con i vigili del fuoco. Io mi ricordo un signore che stava, bagnava il terreno a ridosso della carreggiata e è stato encomiabile.